Scoprire qui, davanti a Lui, il valore del silenzio. Perché nel silenzio l'ascolto si fa più profondo. Perché nel silenzio si percepisce quella voce di Dio che ti chiama, che ti viene incontro, che ti esprime l'amore, che ancora una volta si riconcilia con te e non si stanca mai di doversi riconciliare con te. In quel silenzio cogliamo la bellezza della nostra fede che ci chiama ad essere santi. Ecco, fratelli e sorelle, restiamo ora qualche istante in silenzio. Facciamo in modo che la parola del Signore che ci è stata proclamata possa essere ancora una volta una provocazione al cuore e alla mente per riflettere. E nel silenzio rivolgiamo a Dio ancora quella preghiera con la quale abbiamo iniziato questa Santa Eucaristia. Perché Tu, oh Signore, che ci hai portato qui dal Sacerdote San Pio, Tu ci permetta di rinnovare in noi le meraviglie della Tua misericordia per Sua intercessione. E così sia.